siamo arrivati alla fine di aprile storicamente è il periodo in cui finisce o comunque insomma termina il flusso degli italiani qui all'isola durante l'inverno e questo abbastanza grande flusso di italiani che sono venuti a vedere all'isola che sono venuti a vedere se ci sono investimenti come si fa a trasferirsi qui a vivere qui oggi è praticamente il motivo del video che sto per fare ci sono varie 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 persone che vengono in venezuela sto parlando di italiani ma non solo anche gli europei e raccontano una situazione in europa abbastanza problematica è una situazione dove si sentono sempre più obbligati da leggi di vieti e leggettine un'imposizione fiscale che ormai io penso che sia diventata una bazelletta e gente che sta rischiando patrimoni lavorati tutta la vita per poter continuare un'attività che magari hanno creato da zero e in questo e per questo voglio rispondere a una signora che è la signora francesca zandara che mi dice dal suo punto di vista che l'isla margarita magari è un posto dove si trova bene gente che ha una vita traballante in europa gente che non se la passa bene in europa o che ha poche pretese perché l'europa si non è non si può dire che sia facile ma non è uno schifo allora parte il fatto che io mai ho detto che era uno schifo perché anzi ho sempre detto in tutti i video che alla fine posso stare una vita fuori dall'italia ma il mio essere italiano non cambia ad una virgola io dormo come un italiano mangio come un italiano ragiono come un italiano e questo spesso e volentieri mi ha creato anche problemi qui all'isola perché te sei abituato a delle tradizioni a delle cose sei hai delle abitudini anche qui cerchi 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 ma non trovi è un'altra cultura è un altro modo di vita è un'altra situazione però 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 ripeto è un però grosso come una casa è vero che qui uno si sente più libero e ti faccio degli esempi concreti di vita normale di vita quotidiana e non parlo delle categorie che sfortunatamente sono più debili parlo di gente normale come posso essere io come puoi essere tu io in italia viveva a firenze mi ricordo che quando c'era la pulizia delle strade per parcheggiare la macchina e non trovarci un regalino di circa 80 euro la mattina dovevo fare il giro del mondo per andare al lavoro dovevo prendere non a firenze ma da altre parti milano roma è una tangenziale e quindi per essere al lavoro alle 8 la mattina devo dovevo partire alle 6 6 e mezzo di casa perché mi toccava una bella orettina di 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 fila in macchina quando arrivava il postino e suonava c'è da firmare uno si doveva fare il segno della croce perché non sapevo io mai cosa dovevi trovare o cosa trovavi dentro a quella famosa bustina verde o celeste mi ricordo come se dovevi ritingere la casa esternamente dovevi fare una pratica con un geometra andare in comune dire domandare se il colore che avevi scelto andava bene se avevi un'attività nemmeno nemmeno ne parlo perché i problemi li conoscete e li conosci meglio di me multe controlli ispettori non ispettori asle non asle e compagnia bella le famose visite dal commercialista te le ricordi e le sai bene io me le ricordo ancora come incubi ma me le ricordo e qua comunque sia tutto quello che era anche la vita quotidiana senza andare a cercare per forza imposte tasse soldi di multe la vita quotidiana ripeto che poteva essere un'entrata in una zona blu che poteva essere un'entrata addirittura un museo questo giorno qui no perché perché il sindaco ha detto di no cioè io io veramente come dire che l'europa è vivere in europa uno schifo non sono assolutamente d'accordo anche perché uno non è un albero quindi non è piantato da una parte se non si trova bene da una parte fa come ho fatto io se invece si trova bene sta dove credo però posso dire sì che qui uno si sente più libero si sente più allegro si sente più non voglio affrontare il periodo non voglio parlare del periodo del covid perché sarebbe troppo facile e non sto entrando in merito se è bene se è stato bene vaccinarsi non stato bene vaccinarsi assolutamente niente di tutto questo però te eri obbligato a vaccinarsi io qui se volevo non mi vaccinavo te eri obbligato a stare in casa io qui non ci sono stato 15 minuti del mio tempo te eri obbligato a andare a fare la spesa e comprare cosa volevano che tu comprassi io andavo dal pescatore dal verduraio o al supermercato e l'unico obbligo che avevo era una bella mascherina quindi ripeto quando si parla di libertà non necessariamente si parla che uno fa bene o che uno fa male la libertà è anche la libertà individuale di pensarla in maniera differente è la libertà di trovarsi bene in un posto e magari qualcun altro si trova bene in un altro qui una persona a cui non piace non non piace le regole intendimi bene le regole e le leggi ci sono anche qui però se c'è una regola e una legge qualcuno te li domandi perché c'è questa legge alla fine un concetto una spiegazione regolare leale te la dà io di tante regole che ho vissuto e che sento e che raccontano dell'italia scusami tanto ma questa lealtà nella spiegazione non l'ho mai trovata e continuo a non trovarla quando qualcuno ripeto degli italiani che viene qui mi racconta come si vive oggi in italia e guarda bene te lo dice una persona che un po per l'età un po perché ho due figli grandi uno dei problemi più grandi miei nel vivere qui sarà quando uno dei miei figli mi dice babbo sai che fra poco diventi nonno ecco quella per me sarà una gioia da una parte e una tragedia da quell'altra per cui non è detto che io muoia in questo paese non assolutamente non è detto che non rientri in italia però da questo a dire che questo è un posto dove ci sta solo gli scappati di casa o chi non ce la fa vive in italia scusami con tutta la franchezza però ti dico che stai sbagliato a questo mi riferisco anche a un altro commento di un signore che si chiama john holmes che dice che purtroppo l'italiano per trovarsi bene all'estero deve trovare l'italia in tutto il mondo ha ragione ha ragione e sono completamente d'accordo con lui però probabilmente con un altro concetto rispetto a quello con cui lui ha scritto l'italiano è italiano da 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 io dico sempre geneticamente non è essere italiano non è una una l'appartenenza a una nazione o l'avere un passaporto marrone invece che azzurro invece che giallo no 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 noi siamo italiani perché ci sa un'italianità dentro e alle spalle che non ci cambierà niente nessuno questo però non vuol dire che se io vengo a vivere a margherita non cerco di vivere nella maniera più italiana possibile in casa mia si vive si mangia italiano in casa mia quando arrivano clienti e comunque sia anche con il figlio della mia compagna sto cercando di parlare italiano se arriva qualcuno dall'italia e mi dice cosa ti posso portare spesso e volentieri mi domando un libro quale libro qualunque basta sia scritto in italiano questo non vuol dire che io non vivo all'isola non vuol dire che non mi metto con le tradizioni della gente che è non vuol dire nemmeno che rifiuto a priori qualcosa però se sono un italiano voglio vivere alla maniera italiana bene questo era era tutto è tutto per oggi è un video un po diverso ripeto da una parte sono abbastanza sconvolto da quello che mi raccontano della vita in italia dall'altra è la mia italietta e anche se vituperata attaccata e aggredita e sfruttata e la mia italietta lo stesso per cui venite tranquilli per vacanza venite a trasferirvi venite nessuno vi dà l'etichetta di niente questo è un posto dove si vive sereni tranquilli 365 giorni l'anno di sole e ci si sente liberi nella famosa dittatura venezuelana ci si sente liberi non vi fate riempire il cervello di barzellette che ascoltate o che leggete su internet qui se uno viene e fa le sue cosine a modino come si dice dalle quarti mie nessuno ti rompe le scatole e nessuno ti leva un centimetro solo della tua libertà individuale commentate così almeno commentate state buoni però commentate educatamente perché poi se non mi scappa il divornese poi mi danno di volgare fare le vostre cosine a modino io faccio le mie cosine a modino e siamo tutti contenti e felici a disposizione signori grazie